Salve salve a tutti ragazzi mi chiamo Luigi e bentornati in questo nuovissimo video di Call of Duty Allora come state? Spero bene Oggi vedremo il nuovo pass battaglia di questa stagione 12 di Call of Duty Cioè poi pensate che in un anno Call of Duty ha già fatto 12 stagioni In Fortnite in 3 anni ne ha fatte 14 Comunque ragazzi prima di iniziare il video mi scuso ancora per ieri E vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina delle notifiche Lasciare un bel commento caldo con l'hashtag del giorno che verrà sempre detto a fine video E mi raccomando fate iscrivervi al mio canale youtube anche i vostri amici E niente ragazzi noi possiamo iniziare con questo video Ma prima sigla Ok bene ragazzi eccoci qua andiamo a cambiare equipaggiamento Scegliamo mamma mia cioè il mio elicottero è già al massimo dei livelli mio dio Ehm ok andiamo a scegliere il nostro equipaggiamento Non questo ma questo ovvero il mio Un attimo fatemi vedere la differenza Sembra più massiccio questo Va bene Andiamo il mio Di equipaggiamento E andiamo in partita Ok C'è Ghost Vabbè vi è stato il match matching Vabbè non so come dirlo E ci vediamo dopo Vabbè Vabbè è il pre partita diciamo Ma dopo Ok Sono qua in partita Ma scusami come faccio a dire La fatta se non è lì Boh Allora andiamo di mezzo Così Mi pare Sono proprio arrabbiato Uh c'è anche una mamma No non ci Come come Con che logica No vabbè Ci siamo già dove sei Perché la prima partita Ti va andato subito male Come hai fatto poi In eliminarmi Ma mannaggia Ma mannaggia Uffa Anche due che è il nemico Solo che abbiamo fatto Per un attimo Mi prendevo una portiera in faccia Si va beh dai Mannaggia ragazzi Perché l'abbiamo partita Dove ande male Bella Ma il nemico Anzi no Chiedo che non mi aiutasse Non mi imparato Dov'è? 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 Ma paura che un cecchino potrebbe Potrebbe colpirmi Ah! Eh vabbè Diciamo che sono in difficoltà eh Eh raga Perso Mi dice così Sta camperato però Eh visto? Per poco! Con 850 No Chi è stato l'ultimo? Vediamo Chi è stato l'ultimo No Ghost Perchè? Perchè Ghost Che c'è pure il passaporto Di Ghost Comunque il passbattaglio Me lo comprerò A fine stagione Che ti ristrezza Che ti ristrezza Grande Nivello 11 Quasi Vabbè adesso Facciamo Prima linea Ok Facciamola tutti contro tutti Va bene Solo 3 skin Ovvero io Questa qua E quello lì Bianco Cioè Abbiamo soltanto noi Le skin Mentre gli altri invece Sono deforte Diciamo Ok Lasciamo il segno Non ci dovrebbe essere Qualcuno qua Dai però Dai Ce ne sono due Dai vabbè però Mi uccide sempre Vali camperato Ma dai Cioè No no Però raga No Adesso no Adesso No No Questo io Non l'accetto Mamma mia Mi ha quasi preso No Bianco Io l'ho Grande Gli ho rubato No Ma Che va Si ha fatto No Questo è quello che Dov'è finito Ma dai Era lì sopra Sono terzo Dove scappi Va vabbè Ecco E vabbè Era lì Yes Mi aumenta i punti Tanto arriva da te No no Per fortuna che c'ho Stabilità Che mi protegge Dalle bombe No Mi ho cercato No vabbè Uno lì Uno là Eh È ovvio che Non mi uccidete Scusate Volevo dire Illuminare Ecco Così impari Bianco Ok Allora Devo smettere Questi versi Cerco di fare Più Colpi Avete capito Per aumentare i punti Che male Comunque C'è un mio amico Che poi Comunque Cioè Ha fatto 30 kill Senza morire Come è possibile Non si era proprio Accordo Che ero dietro Di lui No vabbè Uh sono primo No secondo Un momento Di sanno Questa Ah Ho vinto Sì Mio dio Mancava Mancava Una kill Mio dio Ci abbiamo fatta Rega Grandi Andiamo anche In finale Che io stavo cercando Di prendere quello E poi alla fine È sboccato l'altro Grazie Grazie Comunque Perché Si è sboccato Ok Ragazzi Prima Partita Persa Ma poi Abbiamo recuperato E sono stato Anche Yes Ok Grande Livello 11 Un livello Per questa skin Molto carina E poi Altri E poi Tre livelli Per questo Che È abbastanza interessante Questo scudo Balistico Che serve Per Intanto Robusto E difensivo E si può Trasformare Con E Trasformabile Dice che è Trasformabile Con pistola Mitragliatrice Integrata Credo che Che è Questa qua Questa qua Bella Mi piace Come Come scudo Proprio bello Ma la mia skin La mia La mia La mia skin Preferita Anche se è Livello 1 E ghost L'altra È questa No Mi dovevo Far vedere In battle pass Nel prossimo episodio Ma andrò Un po' tardi Questa È l'ultima De Questa È l'ultima skin De Capisce Questa è l'ultima skin Di Di Del battle pass Molto carina Però La mia Preferita Rimane sempre Ghost Biglietto da visita Molto bello I crediti Poi Le monete Punti cod Questi Crediti Ok E Eccoci qua Va bene ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Come sapete Iscrivetevi Il mio personaggio Lo incaricava Come sapete Iscrivetevi Commentate Se non vi siete ancora Iscritti al canale Io vi consiglio di farlo Adesso Noi ci vediamo Con un nuovissimo video Il sabato In una nuovissima live A breve A breve Lo so che sto ripetendo Sempre che farò una live A breve E bla 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 Però ragazzi Filatevi E non vi spoiler Su cosa sarà La live Alcuni Alcuni di voi O Praticamente tutti Sapranno già Di che cosa sta parlando E Ma non perché Ho spoilerato Perché forse Capiscono Su che cosa Farò la live E Se invece Se Non vi viene In mente Vabbè Ciao ragazzi Hashtag del giorno Hashtag polpetta Ciao